Oggi sia un atto gioveroso per i nostri cari, per i ragazzi, per il futuro, devo dire la verità, chi dice di non vaccinarsi secondo me non ha compreso la reale problematica e forse non ha neanche la concezione di che significa vivere un'esperienza negativa. Se mi fossi vaccinato nel 2009 non sarei finito la rianimazione a veri. Aver sbagliato all'epoca, io lo posso raccontare, oggi c'è tanti medici che sono morti, tanti infermieri che sono morti o che continuano ogni giorno a combattere nelle parti Covid, quindi non vaccinarsi è un segno soltanto di stupidità, bisogna avere grande rispetto per la scienza, hanno fatto passi a gigante, un mondo intero ha sviluppato questo vaccino, non è accorciare ai tempi, ma semplicemente un insieme di forze che ha sviluppato un vaccino che può rappresentare il futuro e la rinascita in questo momento non solo del nostro policlinico, del Paese Italia, ma realmente di un mondo che è in ginocchio per una pandemia che probabilmente ci ricorderemo tutti e nei libri di storia verrà sempre scritta. Quindi cominciamo la vaccinazione che è importante e diamo speranza a tutti. Grazie.